Il cadavere di un uomo è stato ritrovato sul tetto di un locomotore nei pressi della stazione ferroviaria di Mentone, in Francia, a poca distanza dal confine italiano. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un migrante che in mattinata avrebbe cercato di passare il confine aggrappandosi al pantografo che trasmette energia elettrica al treno. Rimanendo folgorato, il convoglio, francese della società SNCF, era partito da 20 miglia in direzione della Francia. Per permettere lo svolgimento dei rilievi la circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa due ore. Quello di oggi il quinto caso registrato dall'inizio del 2017 di migranti che sono deceduti nel Tentativo di oltrepassare il confine da 20 miglia alla Francia.